Buongiorno mamma! Valentina, allora per merenda cosa porti oggi a scuola? C'è un pacco di biscotti, ho tanta fame! Un pacco di biscotti? Ma lo mangi tutto? Prendo questo, ok? Allora vado, ciao! Va bene, ma non sono troppi? Ok, avete 10 minuti per la ricreazione! Katia, vuoi fare ricreazione con me? Guarda, ho tanti biscotti! Eh, sì Vale, poi vedo, ok? Ma quanti biscotti ha Valentina? Beh, è sempre sola ricreazione! Ragazzi, volete dei biscotti? Oh, andiamo! Ok, andiamo! Ragazzi, chi vuole dei biscotti? Vale, posso? Certo Katia, tieni! Oh, grazie! Ne prendo un po' anch'io! Vai pure, prendine quanti ne vuoi, ok? Sono veramente felice che siete con me per la ricreazione! Di solito io passo sempre la ricreazione da sola! E almeno adesso ho della compagnia! Andiamo! Andiamo via, andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Katia, Samuel! Ciao mamma! Come è andata oggi, amore? Tutto bene! E i biscotti? Li hai mangiati tutti? Ah, i biscotti? Beh, li ho mangiati tutti! Erano buoni! Ciao!